Ciao ragazzi, un saluto nel vostro grinone e bentornati sul canale. Dai, video di oggi importantissimo. Vi voglio proprio parlare di questa cosa che mi accompagna da tutta la vita. Tranquilli, non è niente di grave, anzi, però dico da subito, siccome si tratta di un prodotto, evitate per cortesia nei commenti di scrivere, hai fatto il product placement, ti pagano, eccetera, eccetera, perché io non prendo un euro, non dirò assolutamente il nome dell'azienda, della casa produttrice e proprio alla fine del video vi dirò come si chiama questo oggetto e il prezzo. Cioè veramente, intendetelo come un favore che vi sto facendo a parlarvi di questa cosa, perché ho visto ieri, che era il 7 di settembre, la presentazione dell'iPhone 7, tutto il fervore, il fermento che si è creato intorno a questo dispositivo nuovo di Apple, gente che si strappa i capelli perché sta aspettando di dargli questi 900 euro per un telefono e mi son detto, cavoli, questo prodotto qua è straconosciuto, è fuori da un sacco di tempo, l'iPhone in confronto è ridicolo, è ridicolo, ho detto, vabbè, è una cosa che mi sento dentro, devo parlarvene a tutti, i costi di questa cosa qua. In Italia nel linguaggio tecnico è conosciuto come dispositivo CRV, ma non sto a spiegarvi cosa significa la sigla perché è una roba complicatissima, piuttosto vi parlerei delle caratteristiche e delle funzionalità del prodotto. Quindi partiamo con i materiali che sono al 100% tutti i materiali di origine organica, quindi eco-friendly, anti-inquinamento, subito da apprezzare. La batteria poi dura una vita e quando intendo una vita, intendo proprio una vita. Alimentazione anche qui organica, induzione, quindi senza fili perché è completamente wifi, senza cavetti USB, prese, robe varie, dimensioni compatte, si porta tranquillamente in giro e alle volte veramente vi dimenticherete di averlo. Non si rovina con l'acqua, non teme sbalzi di tensione, cose particolari, è veramente perfetto, come costruzione è perfetto. Le funzionalità sono ancora più incredibili perché vi permette di fare qualsiasi cosa. E non sto scherzando, cioè non sto facendo la pubblicità, capito? Vi sto veramente descrivendo il prodotto e vi permette di fare qualsiasi cosa, dalle più basilari operazioni come chiamare, ascoltare, guardare, alle più complesse, calcoli particolari, traduttore, ha una memoria, una capacità di immagazzinare dati allucinante, c'è neanche i megacomputer hanno delle cose così. Veramente, se devo star qua e elencare tutte le funzionalità che ha, non finiamo più perché sono infinite. Io posso riassumervelo con una frase che, ripeto ancora, non è una roba pubblicitaria, però se voi utilizzate questo dispositivo, siete liberi. Nella vostra vita con questo dispositivo potete fare qualsiasi cosa. Adesso però sapete che io sono sincero nei vostri confronti, e quindi non è tutto rose e fiori, c'è comunque il retro, l'altra faccia della medaglia. Questa azienda ha avuto negli ultimi anni problemi, più che altro non l'azienda, ma gli utenti hanno avuto problemi di installazione e problemi di utilizzo, cioè relativi al fatto che magari dopo un po' di anni il dispositivo si deteriorava, funzionava male, anche se non voglio fare l'avvocato del diavolo, non voglio difendere l'azienda, però diciamo che il problema era più dell'utente che deve prodotto, gente che non era in grado di installarlo, non che non si potesse installare. Ad ogni modo, adesso è tutto risolto, in sostanza tramite una semplice mail da inviare con nome, cognome, sesso, data di nascita, all'indirizzo, magari poi ve lo lascio in descrizione, comunque activate-sinapsi.brn, per tutti gli utenti che hanno già il dispositivo, inviando questa email, li si attiva immediatamente tramite wifi e quindi anche lì proprio un rimborso completo. Con questo quasi finito, parliamo del prezzo adesso, perché vi lascerà a bocca aperta e poi vi dirò finalmente come si chiama, che cos'è questo dispositivo. Il prezzo, signori, è stupefacente perché è completamente gratuito e disponibile dalla nascita. Avete capito bene? Qualcuno di voi avrà già intuito, sto parlando proprio del cervello. Usatelo perché scoprirete che è uno strumento magico, signori. Con questo io concludo. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, a condividerlo con i vostri amici. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete colto il senso del mio messaggio. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre con tanta qualità. Ciao belli!